E' una malattia dei cristiani questa. Abbiamo paura della gioia. E' meglio pensare, sì, sì, Dio esiste, ma è là, Gesù è risorto, è là. Un po' di distanza. Abbiamo paura alla vicinanza di Gesù, perché questo ci dà gioia. E così si spiega a tanti cristiani di funerale, no? Perché la sua vita sembra un funerale continuo, no? Preferiscono la tristezza e non la gioia. Si muovono meglio, no nella luce della gioia, ma nelle ombre. Come quegli animali che soltanto riescono a uscire nella notte. Ma alla luce del giorno non vedono niente. Come i pipistrelli, e con un po' di senso dell'umorismo possiamo dire che ci sono cristiani pipistrelli, che preferiscono le ombre alla luce della presenza del Signore. Abbiamo paura della gioia. E Gesù, con la sua risurrezione, ci dà la gioia. La gioia di essere cristiani. La gioia di seguirlo da vicino. La gioia di andare sulle strade delle beatitudini. La gioia di essere con Lui. E noi, tante volte, o siamo sconvolti quando ci viene questa gioia, o pieni di paura, o crediamo a vedere un fantasma, o pensiamo che Gesù è un modo di agire. Ma noi siamo cristiani e dobbiamo fare così. Ma dov'è Gesù? No, Gesù è in cielo. Ma tu parli con Gesù. Tu le dici a Gesù. Io credo che tu vivi, che tu sei risorto, che tu sei vicino a me, che tu non mi abbandoni. Ma la vita cristiana deve essere questo un dialogo con Gesù. Perché questo è vero. Gesù sempre è con noi. E sempre è con i nostri problemi, con le nostre difficoltà, con le nostre opere buone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.